Ciao, mi chiamo Ida Ferrari e ho una formazione come terapeuta in naturopatia, chinesiologia e trattamento craniosacrale ed ora anche in scan terapeutico. Tengo anche dei corsi di formazione e delle conferenze. Abito sul lago di Garda in un piccolo e tipico villaggio italiano e insieme con mio marito gestisco una casa vacanze regina del lago. Per molto tempo mi sono interrogata su chi sono io, che cosa sono venuta a fare su questa terra e soprattutto che cosa ho da dare al mondo, quali sono i miei talenti, qual è il mio potenziale e devo dire che lo scan terapeutico ha dato risposta a molte di queste domande. Quindi adesso ti volevo dire che cos'è lo scan terapeutico o scan terapeutico perché io ho lasciato la dicitura diciamo in francese perché questa formazione è francese. Innanzitutto lo scan è una funzione che tutti abbiamo di leggere l'energia in noi e nei luoghi. Tutti facciamo scan fin dalla nascita, i neonati hanno solo questo modo diciamo di sentire, di percepire, questo sesto senso che li aiuta e quindi loro sentono sì mi sento bene, no non mi sento bene e quindi tutti noi facciamo lo scan. Per esempio quando tu entri in un posto la prima cosa che fai è leggere l'energia oppure incontri una persona e subito senti che c'è qualcosa che non va secondo il tuo sentire, insomma c'è qualcosa che non ti va giù e allora in un secondo momento poi scopri che cos'era e ti dici ecco l'avevo sentito. Quindi come ti dicevo lo scan è una funzione intuitiva che abbiamo tutti e chi lo fa? Come ho detto giusto adesso tutti lo facciamo. La sola cosa che io ho aggiunto è che mi sono fidata del mio sentire e l'ho talmente approfondito che ora so leggere il corpo umano, gli organi per esempio e vedo dove possono essere i blocchi. Lì per esempio dove diciamo a noi stessi non si deve, non devo o per esempio posso vedere dove sono le cristallizzazioni cioè dove c'è tanta energia ma questa energia non esce, io non riesco ad esprimerla, c'è qualcosa che mi impedisce di farlo. Quindi posso capire che cosa sta dicendo il corpo che mi parla attraverso la sua intelligenza e mi metto per farlo diciamo mi metto sulla sua frequenza. Io utilizzo lo scan per permetterti di avere una visione più chiara di te stesso o di te stessa anche per dirti qual è il tuo potenziale e dove o che cosa ti impedisce di esprimerlo. Posso anche vedere diciamo come si esprime in te la salute, che cosa funziona e che cosa invece è disfunzionale. Posso aiutarti a ritornare alla sorgente, alla causa dalla quale è partita tutta la problematica ed è lì che poi diventa terapeutico perché insieme possiamo trovare delle vie di uscita. In altre parole se riusciamo a vedere le cose da un altro punto di vista allora capiamo il messaggio che ci viene dato e troviamo la porta di uscita e così possiamo accedere alla trasformazione. Io in quanto terapeuta sono semplicemente una facilitatrice, una acceleratrice di questo processo. Ci potresti arrivare anche da solo o da sola. Lo scan è un'ottima scorciatoia. Molti che hanno ricevuto una sessione di scan dicono c'è un prima e c'è un dopo lo scan e quindi riassumiamo diciamo dicendo a cosa serve. Serve per far saltare i tuoi punti di riferimento in modo che tu possa guardare da un altro punto di vista che contiene la soluzione al tuo problema. Quando posso integrare una nuova informazione il corpo guarisce naturalmente. Il corpo è fatto per essere sano quindi non ha più bisogno di esprimere per te questa cosa che tu non avevi capito o che la tua testa non aveva capito. Lo scan ti aiuta anche ad entrare in te stesso, in te stessa e ad aprire il tuo vaso di pandora per offrire il suo contenuto al mondo. Ti fa ritrovare l'equilibrio, l'armonia con te stesso, con te stessa e quindi puoi scegliere liberamente come essere. Ricordati che l'energia cosmica è all'interno di noi e vuole mostrarsi, vuole accendersi, vuole espandersi. Quindi tutto è già in noi dall'inizio, tutto è già in te all'inizio, lascia che la tua fiamma illumini il mondo. Adesso ti dico come funziona in pratica una sessione di scan. Allora lo scan è una sessione che puoi ricevere di persona oppure la possiamo fare anche su skype o su zoom. Dura un'ora e trenta e all'inizio ti darò delle ulteriori informazioni su come procederemo durante lo scan, su che cosa faremo e se vuoi puoi anche farmi delle domande su qualcosa sulla quale desideri informazioni su delle cose specifiche, su delle tematiche specifiche, su delle aree specifiche. E questa fase dura circa un quarto d'ora. Nella parte centrale ci sarà la lettura energetica, prima di tutto la lettura del campo informazionale e poi la lettura di tutte le altre informazioni. E questa fase dura un'ora circa. Nella parte finale ti riassumerò che cosa abbiamo trovato e quali sono le porte di uscita che abbiamo ritrovato. Poi alla fine della registrazione ti invierò la registrazione stessa in modo che tu possa riascoltarla tutte le volte che vuoi perché spesso ci arrivano così tante informazioni che non riusciamo a trattenerle tutte in una volta e quindi il fatto di poterlo riascoltare ti fa diciamo prendere al cento per cento tutte le informazioni che hai ricevuto da questa sessione. Ecco quindi se vuoi partire per questa avventura insieme con me ci vediamo dall'altra parte.